Scopriamo la chiesa Capnicarea, una delle gemme architettoniche di Atene risalente alla metà dell'undicesimo secolo. Questo straordinario esempio di architettura bizantina è celebre per la sua struttura a croce, in scritta, caratterizzata da quattro colonne che sostengono una complessa volta crociera, riflettendo il design preferito durante il periodo bizantino. La chiesa Capnicarea mostra caratteristiche distintive come la muratura culasonne, una tecnica costruttiva che alterna strati di pietra e mattoni tipica della tradizione ecclesiastica greca. Questo stile non solo conferisce all'edificio un aspetto visivamente impressionante, ma anche una robustezza strutturale. Le quattro colonne centrali, realizzate con materiale di riciclo, sostengono delle piccole arcate che a loro volta sorreggono le volte a botte che incorniciano la campata centrale quadrata, culminando in una cupola sorretta da un tamburo ottagonale decorato con finestre a strombo. L'esterno della chiesa rivela un'organizzazione spaziale intelligente, evidente dalla progressione delle altezze che partono dalle camere angolari per arrivare fino alla cupola alta. Questa stratificazione delle altezze è arricchita da dettagli decorativi, come motivi cloisonne e cruciformi della muratura, nonché capitelli in marmo che sostengono archi dalle modanature smussate. Questi elementi non solo arricchiscono esteticamente l'edificio, ma contribuiscono anche alla sua narrativa visiva e simbolica. Nonostante le origini della sua costruzione rimangano a volte nel mistero, si ritiene che il nome Capnicarea possa derivare dall'esattore della tassa sui focolari, chiamata Capnicon, sottolineando così un collegamento diretto con la storia sociale e fiscale della regione. Inoltre l'aggiunta successiva della cappella di Santa Barbara e di un esono artece del XII secolo testimonia l'importanza continua del complesso attraverso i secoli. Una visita alla chiesa Capnicarea non è solo un'opportunità per ammirare una delle più antiche e belle strutture di Atene, ma anche per immergersi nella profonda storia religiosa e artistica che caratterizza questo luogo sacro. Il sito invita visitatori fedeli a esplorare le sue ricche decorazioni, la maestosa architettura e il profondo significato spirituale che ha resistito al passare dei secoli. Per gli appassionati di storia, architettura e arte religiosa, la chiesa Capnicarea rappresenta una tappa imprescindibile in qualsiasi tour di Atene, offrendo uno sguardo unico sulla grandezza dell'arte bizantina e sulla storia della civiltà greca. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!